La raccolta di tessuti del museo, iniziata da Gian Giacomo Pol di Pezzoli con pochi selezionati pezzi e proseguita dal primo direttore Giuseppe Bertini, conta circa 250 manufatti tra parati liturgici e frammenti di stoffe da arredamento e abbigliamento databili dal V al XIX secolo. La collezione comprende anche un importante nucleo di tessuti copti. Il 400 è rappresentato da velluti che testimoniano l'alto livello tecnico raggiunto dalle manufatture italiane e l'importante funzione sociale svolta dalla produzione euroserica che, dalla metà del XV secolo, era l'attività sulla quale si basava gran parte dell'economia delle città italiane come Venezia, Milano, Firenze, Lucca e Genova. Nella collezione sono ben rappresentate le diverse tipologie di velluti quattrocenteschi, manufatti preziosissimi, accessibili soltanto a un'elite di persone legate alle corti o appartenenti alle classi sociali più elevate. Si trattava dei tessuti di grande pregio per il materiale di cui erano costituiti, la seta, le tinture come il rossocremisi tratto dal corpo essiccato di una cocciniglia importato da Polonia, Russia, Ucraina o Armenia e infine i filati d'oro d'argento alla cui produzione contribuivano i battiloro o battifoglia. Questi artigiani specializzati martellavano una pepita fino a ridurla a una lamina dello spessore di massimo 3 micron che tagliata in fogli veniva affidata alle fila oro, maestranze femminili che con apposite forbici la tagliavano in strisce molto sottili larghe tra 170 e 360 micron. Queste lamelle venivano quindi avvolte intorno a un filo di seta per mezzo di un semplice fuso. Oltre ai materiali la ricchezza dei velluti rinascimentali era legata alla loro complessità tecnica che richiedeva tempi lunghi di preparazione del telaio e il lavoro di 4-5 uomini contemporaneamente nella fase di tessitura che procedeva a una velocità di pochi centimetri al giorno. I velluti tessuti su telai a tiro messi a punto nel corso del XV secolo richiedevano un quantitativo di seta davvero ingente 5 volte maggiore rispetto agli altri materiali perché per ottenere il pelo del velluto era necessario prevedere un ordito supplementare che passava sopra un apposito ferro detto proprio ferro da velluto. Il ferro di sezione rotonda ovale veniva sfilato dal tessitore lasciando sul tessuto una serie di anelli emergenti dalla trama che davano forma al velluto cosiddetto riccio. Per tessere il velluto tagliato si utilizzavano ferri che presentavano una scanalatura per l'introduzione della taglierina con la quale si tagliava l'ordito durante la lavorazione. Tra i velluti più costosi spicca quello alto basso o controtagliato che prevedeva il taglio del tessuto a diverse altezze ovvero l'utilizzo di ferri di diametro diverso ed esaltava in questo modo le caratteristiche plastiche con effetti di chiaroscuro. La complessità tecnica maggiore il tessitore la raggiungeva con l'inserimento di trame in fili d'oro d'argento broccate ovvero che seguono l'immagine del disegno o bucle che danno vita a una serie di anelli. La lavorazione di tessuti operati richiedeva quindi oltre alla specializzazione di ogni parte del processo anche la disponibilità di capitali da investire nelle materie prime e la capacità di commercializzare il prodotto nei mercati di lusso di tutta Europa. Motivi decorativi più apprezzati erano quelli dette a cammino con sviluppo orizzontale caratterizzato da corolle contenenti melograni, pigne o cardi alternate a foglie, a inferriata con un tipo particolare di disegno a cammino nei quali in contorni del disegno sono ricavati lasciando a vista la trama e l'ordito di fondo. E infine a griccia ad andamento verticali a grandi foglie lobate in fiorescenze su tronchi ondulati. Questo esemplare probabilmente confezionato nell'ottocento presenta un'altra specificità tecnica, l'allucciolato, cioè l'effetto dato dalle trame broccate in filato metallico sollevate per creare piccoli anelli bucle che riflettono la luce come lucciole in un campo. La dama, ritratta da Piero del Pollaiolo, opera simbolo del Museo Pol di Pezzoli, indossa un elegante abito con le maniche in prezioso velluto operato, simile a quelli presentati.